Eccoci, bentornati a tutti. È un grande piacere per me introdurre un carissimo concittadino, ovvero Marco Maculotti, che si è lavoreato, vive, lavora a Milano. Benvenuto Marco. Grazie Michele, è sempre un piacere essere ospite su canale della società dello Zolfo. Grazie anche a tutti coloro che stanno seguendo. Marco è fondatore di Access Mundi, rivista online di antropologia, folklore e chi più ne ha fine meta. È una, secondo me, delle testate online che più si avvicina allo spirito di interculturalità, di confronto su vari temi, dal mito al simbolo, al sogno, ai fenomeni folclorici più peculiari che Marco ha studiato. Si è occupato molto anche di Macan, pubblicando ben tre saggi. Per Mimesi è uscito un altro libro, un altro sottrattato, mi verrebbe da chiamarlo, eccezionale, ovvero qualcosa svelata. Nel caso vi siete sempre domandati cosa ci sia dietro alla mitologia creativa della serie True Detective, leggete il libro di Marco. E Marco interverrà su un tema altrettanto succoso, ovvero tradizioni e pratiche magico-stregoniche nel folclore europeo. Marco, partiamo nel cuore di questa trattazione. Che ci azzecca la religione, la magia e la stregoneria? Qual è il rapporto per eccellenza che tu troveresti? Bene, grazie Michele per la presentazione. Iniziamo a fare un discorso abbastanza generale, anche ricollegandoci agli interventi dei precedenti relatori che ho seguito con molta attenzione e con molto piacere. Partiamo dal canone episcopi, che è il primo testo della Chiesa Cattolica che tratta di queste pratiche che vengono definite appunto magiche, che vengono definite stregonesche e poi vedremo in che senso questa definizione si può accettare solo parzialmente. Il canone episcopi, alla fine del Trecento, viene pubblicato e reso noto dalla Chiesa di Roma e va ad analizzare i primi fenomeni stregonici dell'Europa occidentale. Vedremo poi nella nostra conversazione come queste tradizioni, queste pratiche, queste credenze non siano da limitare alla sola Europa occidentale, ma interessino anche per esempio le isole britanniche, l'area orientale, quindi Slava, Magiara, con dei grossi collegamenti vedremo con la religione sciamanica delle steppe mongole siberiane. Il canone episcopi analizza un fenomeno di cui la Chiesa era venuta a conoscenza nel Trecento, ma che in realtà, leggendo alcuni comunicati appunto dei vescovi, si capisce che è sempre esistito anche nei secoli precedenti. Anche per esempio il vescovo di Lione ne parlava già nell'VIII o nel IX secolo, adesso se non ricordo male. Si parla di donne o di uomini, anche se per la maggioranza si tratta di donne, che in alcune notti dell'anno, che coincidono con le quattro tempora del calendario pagano, antico soprattutto del calendario celtico, sostengono di abbandonare il corpo in spirito. Questa è la frase che viene riportata in questi testi e raggiungono in questo altro mondo, in questo al di là, una divinità femminile e le anime che le stanno appresso e anche delle entità che vengono denominate poi con varie denominazioni, le fate, le moire. Si riprende sempre comunque dal paganesimo delle zone in cui si tratta, quindi paganesimo greco-romano, paganesimo germanico-celtico e via dicendo. Queste donne appunto si dice che in queste determinati notti dell'anno raggiungono questa dea che viene considerata dalla chiesa di Roma la dea Diana, la dea delle streghe appunto, che era ovviamente l'antica dea selenica, lunare dell'ambito italico. Ora, religione, magia, stregoneria, queste differenze in realtà vengono fatte a seconda del periodo storico, nel senso che la chiesa di Roma nel canone episcopi definisce queste pratiche magiche stregoniche e non religiose, ma in realtà la conclusione a cui giunge la chiesa di Roma in questo momento storico è che siano mere illusioni, che non si debba credere che queste streghe veramente raggiungano questi mondi altri, questa divinità e quindi è molto letta oggi, consentimi, mi chiede questo appunto, è quasi ridicolo leggere vescovi, alti predati che negano la realtà del fenomeno semplicemente perché il corpo rimane nella stanza dove giace la strega. Ci sono dei casi in cui le streghe appunto sostengono di poter viaggiare in spirito e i vescovi dicono no, non è vero perché l'hanno visto tutti che il corpo della strega era lì che stava dormendo. Chi ovviamente conosce minimamente lo sciamanesimo o dottrine simili sa che è l'anima che si stacca dal corpo e va in questi altri mondi a compiere queste esperienze e vedremo meglio più tardi nella nostra conversazione come in tutte queste tradizioni sia dell'Europa occidentale che delle isole britanniche che dell'Europa orientale fino addirittura alle steppe asiatiche, una delle caratteristiche che inquadra queste persone con questi doni speciali è l'essere nato con la camicia, cioè con la camicia amniotica che ricopre appunto il corpo del neonato appena nato. Tratteremo meglio più tardi questo discorso, però mettiamo subito in relazione la camicia amniotica nel folclore di tutte queste aree all'anima esterna, a quella che i norreni, quindi i popoli scandinavi pre-cristiani chiamavano la filgia e questa filgia appunto può apparire come una donna, una fata, una moira, una parca quindi anche legata al destino ma può anche apparire sotto forma di animale ed è quel famiglio famoso con cui le streghe avevano dei rapporti secondo la chiesa di Roma appunto illeciti un patto di sangue secondo la chiesa di Roma e diciamo anche subito questa cosa, se nel canone episcopi la chiesa era giunta alla conclusione che si doveva trattare di illusioni e anche qui notare bene la sottigliezza illusioni però causate dal demonio, quindi il demonio esiste, causa queste illusioni però queste esperienze non sono veramente vissute, sono delle mere illusioni ed è importante vedere come sebbene la chiesa di Roma in questo punto storico alla fine del Trecento negasse la realtà del fenomeno, si inizia a collegare questo culto antico di Diana che vedremo meglio dopo, ha degli elementi agrari della fertilità e altri elementi invece funerari, funebri, che hanno a che fare con le anime dei morti che seguono la dea Diana in questa sua processione fantasma in queste date dell'anno tanto è vero che questa processione fantasma che veniva chiamata in latino Dianaticus, cioè le anime appunto che seguono Diana, inizialmente diventa viene connessa al purgatorio, queste sono le anime del purgatorio che non sono riuscite ad ascendere al cielo oppure sono le anime dei bambini nati morti oppure sono le anime delle donne morte durante il parto quindi c'è un'interpretazione subito cattolica si parla del 1300 e verosimilmente questo culto esisteva da molti millenni io direi ma non siamo ancora al livello successivo che avviene invece tra il XV e il XVI secolo quando questi culti agrari, funerari, antichi vengono esplicitamente connessi all'adorazione del diavolo a un rifiuto della religione cattolica con una serie di gesti il calpestare della croce il baciare il diavolo in forma di gatto nero sull'anu una serie di atti che escono nei processi solo dopo diversi secoli e quindi sembra e poi ti lascio la parola e iniziamo ad analizzare meglio la questione sembra che se fino al 1300-1400 la Chiesa di Roma ha cercato di tenere distinto delle pratiche, dei culti parasciamanici diciamo così che non avevano degli elementi esplicitamente malefici esplicitamente anticattolici poi da un certo momento in poi e soprattutto nella Germania della riforma ovviamente sappiamo luterana vediamo che tutti questi fenomeni tutti questi culti antichi residuali ecco vengono bollati come anticristiani come demoniaci diciamo così per partito preso stricto senso grazie Marco ciò che hai detto è una cosa fondamentale per comprendere sia la storia delle religioni che delle corretti spirituali che delle tradizioni folcloriche da un certo punto di vista c'è stato il rifiuto di certi elementi o comunque sono stati bollati in un certo modo certi elementi come quello delle anime delle anime dei morti prematuri dei morti in giovane età dei morti per morte violenta così come altri aspetti derivanti da tradizioni pagane paganeggianti precedenti sono stati rifiutati bollati negati come hai detto tu la stessa chiesa ha studiato una specie di fisica dei corpi delle trasmigrazioni dei fenomeni occulti per cui si rifiutavano queste idee non a caso tu hai citato canone episcopi io ti cito cortescalco d'arbe del de predestinazione che dice no, le anime dei demoni non esistono sono solo flatus vocis cioè nel senso è solo questione per la mente di voci che ritornano però come hai detto tu c'è un rifiuto ma c'è anche un movimento di appropriazione nei miei altri elementi vero perché alcuni elementi folclorici tu parlavi delle anime dei morti esistono anche una tradizione tedesca che tu hai citato attraverso quella scardina ma avvenendo un po' più in giù le certe schiere di morti arvanti che sono dei propri battaglioni come li chiama Iliade ed è un fenomeno particolare tuttavia arriviamo a noi ci sono degli elementi di tradizione precedenti come quello dei bene andanti che sono stati acquisiti perché? di cosa stiamo parlando? beh, allora facciamo un'introduzione un minimo su quanto hai detto di come la Chiesa di Roma ha provato a cristianizzare alcuni elementi dei culti antichi brevemente parliamo di questo di questo fatto e poi passiamo ai ben andanti fin dai documenti che ricordavo precedentemente quindi già dal nono secolo della nostra era leggiamo queste raccomandazioni da parte di vescovi di altri prelati della Chiesa di Roma non dovete adorare le fonti non dovete adorare i boschi non dovete adorare gli spiriti dei boschi fauni e tutto quanto non dovete vestirvi con maschere di cervo quando ci sono le calende di gennaio non dovete mettere le maschere da vecchia che erano legate alla dea Persia o alla dea Olle che poi nell'ambito germanico è identica alla Diana dell'ambito italico ora tutti questi elementi di culto pre cristiano non sono stati non sono usciti a cristianizzarli tuttavia ci sono alcuni di questi luoghi sacri come fonti come grotte che in realtà sono stati cristianizzati sotto il culto mariano e questo è un primo punto il culto mariano come i nostri ascoltatori sapranno non esiste fin dall'inizio del cristianesimo ma è stato concesso diciamo così dalla chiesa di Roma col passare dei secoli proprio per andare a cristianizzare alcuni di questi luoghi sacri in cui questi spiriti femminili si manifestavano grotte fonti in Italia nell'Italia pre cristiana era la dea Salus la dea delle fonti e non a caso uno dei nominativi poi mariani della Madonna cristiana è proprio legato a questo nome è la salvatrice ma è anche la dea delle fonti in qualche modo ora cosa scelta questo con i benandanti lo leghiamo i benandanti tramite la figura di Giovanna d'Arco Giovanna d'Arco come sappiamo è stata una paladina del cristianesimo ma nonostante ciò la sua biografia presenta degli elementi indubbiamente pagani indubbiamente estatici che se fossero se fossero stati trovati su altre persone sarebbero stati definiti indubbiamente come demoniaci e non a caso tra l'altro Giovanna d'Arco stessa fu condannata a rogo nonostante ciò che fece e nonostante che fosse considerata una paladina del cristianesimo Giovanna d'Arco si recava presso questo albero sacro dove sentiva queste voci di entità sovrumane entità sovrannaturali quelle che in Francia nella Francia cristiana erano le fese le fate e Giovanna d'Arco riceveva poi la visita di un angelo di luce che lei aveva connesso all'arcangelo Michele a San Michele ora gli stessi elementi noi li troviamo nei benandanti friulani e la cosa particolare dei benandanti e poi spieghiamo bene perché sono diventati famosi grazie all'opera di Carlo Ginzburg appunto i benandanti trattasi della sua tesi di laurea quindi l'aveva scritto giovanissimo questa opera fondamentale i benandanti vivevano delle esperienze molto simili a quelli di Giovanna d'Arco ricevevano la visita notturna di questi spiriti disincarnati che però si presentavano come entità divine non tanto come spiriti dei morti o degli antenati i benandanti parlavano sentivano delle voci appunto come Giovanna d'Arco delle voci sovrumane e poi soprattutto questi benandanti dicevano che nelle quattro tempore che abbiamo già menzionato uscivano dal corpo in spirito per fare delle battaglie rituali per la fertilità per la fecondità quindi per i campi per gli armenti ma anche per il bene della comunità i benandanti trovano un corrispettivo in altre confraternite statiche dell'Europa orientale come i taltos ungheresi come i crisnichi sloveni come i calusari e i santuaderi romeni e moldavi tutte queste confraternite statiche non presentavano delle caratteristiche anticristiane anticattoliche o demoniache anzi erano considerati per le comunità nelle quali vivevano una sorta di ancora di salvezza verso il male sovrannaturale diciamo così contro le malattie perché ovviamente nel pensiero precristiano il pagano in tutto il mondo praticamente le malattie derivano dall'intervento di un demone o di uno spirito disincarnato che causa la malattia ora benandanti si chiamavano così perché li distinguevano dai malandanti e i benandanti stessi dicevano di combattere appunto in spirito queste battaglie per il bene della comunità per la fertilità della comunità contro delle streghe cattive i malandanti appunto quindi vediamo che anticamente ma ancora in era cristiana dietro i benandanti si parla del 1600 1700 esistevano delle confraternite di segno opposto quindi che volevano fare del bene alla comunità oppure volevano fare del male alla comunità e queste confraternite si sfidavano poi in queste battaglie sottili nell'altro mondo in determinate date dell'anno quindi le quattro tempore che abbiamo già menzionato tu hai nominato queste schiere appunto fantasma che sono così comune nel folclore germanico e scandinavo e prima abbiamo nominato la processione di Diana che è la processione delle anime queste schiere invece sembra che siano da connettere alla parte maschile di queste confraternite cioè confraternite che erano sia statiche che avevano caratteri parashamanici ma avevano anche caratteri bellici pensiamo ai berserker scandinavi pensiamo ai luperci o agli erpissorani dell'ambito italico oppure agli stessi taltos ungheresi che oltre a appunto combattere in spirito queste battaglie compivano dei rituali veri e propri vessendosi con pelle animali e via dicendo per esempio i luperci frustavano con l'interiora di pecora poi no le donne per questa cosa della fertilità che c'è sempre queste battaglie poi venivano combattute da questi gruppi di malandanti e benandanti impugnando delle piante la pianta di finocchio che era impugnata dai benandanti che è una pianta che come sappiamo è benefica è purificatrice addirittura ci sono delle comunicazioni della chiesa che vieta di usare ovviamente nella loro mentalità materialistica questi rami di finocchio ma noi dobbiamo capire che è tutta una visione anche simbolica non è che vietando il ramo di finocchio si vieta un fenomeno psichico un fenomeno sottile che evidentemente va avanti da millenni e un'altra cosa e poi ti lascio la parola è interessante anche come si inquadrano i licantropi in tutto ciò perché se nel folclore moderno il licantropo l'uomo luco è considerato ovviamente una specie di demonio nelle testimonianze che ci sono giunte dal 1600 dal 1700 1600 1700 quelli che venivano accusati di essere lupi mannari affermavano le stesse cose dei benandanti cioè noi siamo i cani di Dio noi compiamo delle battaglie in spirito per la fertilità grazie a noi i raccolti dei campi non vanno a male grazie a noi le mandre che erano state colpite da un incantesimo vengono riportate alla fecondità e quindi vediamo che ovviamente i licantropi vanno legati alla trasformazione animale sciamanica questo si fa senza dire e anche a tutte quelle confraternite appunto estatiche e belliche come berserker duperci e pissorani che per vivere l'esperienza estatica vestivano queste pelli dell'animale totemico a cui si sentivano collegati quindi qua si sta parlando di qualcosa che va ben oltre il cattolicesimo ben oltre la visione del bene e del male cristiana si sta parlando di una visione pre cristiana pagana in cui anche gli elementi più terrifici più solo apparentemente ecco così maligni come la trasformazione in lupo come il fatto di partecipare a cortei fantasmi o cose del genere invece sono inseriti in una visione per cui il male fa parte del ciclo della vita e della morte e deve essere utilizzato ai fini del bene ed è una visione opposta a quella del cattolicesimo secondo cui il male va semplicemente respinto con il segno della croce con le preghiere e va cercato di lasciare lì senza invece far sì che da uno scontro tra il male e il bene poi sia il bene ad uscire il vincitore è molto interessante anche l'aspetto dei bastoni e dei semi di finocchio cioè questo cerchiamo di dare una visione alternativa perché quello di cui stiamo parlando Marco è cercare di vedere cioè di confrontarsi tra sistemi culturali antichi diversi con un diverso approccio alla vita perché di quello stiamo parlando cioè i bastoni con semi di finocchio tendenzialmente se noi li vediamo come portatori di salute portatori di vita per l'utilizzo che ne facevano anche semplicemente attraverso l'uso alimentare ti dà un'idea sul fatto che queste figure che si scontravano in sottile come hai detto in astrale cioè proiettavano i propri corpi si scontravano in una battaglia protospirituale idetica ne chiamerebbe qualcuno degli studiosi di folklore in Repubblica Ceca il cui nome non mi viene ma adesso te lo dirò tuttavia cioè se tu vedi il bastone il bastone di finocchio del finocchio come portatore di vita ti dici cosa c'è di meglio del finocchio per combattere le tenebre e lo so detto da noi cioè potrebbe sembrare surreale però se tu ti rimetti nel contesto folclorico capisci che il sistema funziona e riconosce determinati tipi di valori perché il finocchio non solo veniva utilizzato in uso alimentare non solo viene utilizzato durante queste radioni sottile ma esso stesso diventa il simbolo di qualcosa di più della cosa più salutare più utile e più legata a una tradizione che viene poi assorbita all'interno dell'ambito cristiano tuttavia andiamo avanti è parlato anche di ricantropi ci sarebbe da per un libro per esempio autrici finlandesi che hanno scritto libri in cui si trasformano a se stesse in ricantropi per cui la figura della donna si emancipa dal contesto borghese trasformandosi nella bestia che la società borghese non vuole vedere però in realtà era un fenomeno quasi esclusivamente maschile quello dei ricantropi difatti i primi ricantropi donna arrivano a letteratura di ottocentesca memoria per cambiare finalmente natura diciamo che autori come Bakhofen non avrebbero provato del tutto una visione così femminista innovativa tuttavia parliamo di operatori spirituali so che a te sono tanto cari gli sciamani e tu sai bene che per me un mio carissimo testo è la ruse la presa in giro dello sciamano da parte di Caterina la Grande cioè il del siberische sciaman del 1786 che dipinge lo sciamano come se fosse un folle o meglio c'è una malattia che li rende tutti folli però parliamo di sciamani perché gli sciamani sono concepiti come dei folli o come sono perché sono in realtà ben più dei folli ecco allora innanzitutto dobbiamo tu hai parlato di questo testo è quello in cui parla anche Eliade nel suo lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi criticando aspramente questa considerazione della figura sciamanica come un pazzo colpito dall'isteria artica e ovviamente questa è una teoria secondo cui in certe zone del mondo come la Siberia in cui vi erano gli inverni molto rigidi lo sciamano era semplicemente una persona che usciva di testa diciamola così in maniera molto colloquiale e quindi tutte le esperienze che diceva di avere la possessione demoniaca non erano altre che illusioni alla fine non cambia tanto dalla visione razionalistica alla visione della chiesa di Roma con queste donne del Dianaticus queste seguaci di Diana è tutta una questione di malattia mentale questo perché è perché a mio parere viene meno una complessità che prima c'era e che c'è ancora anche nell'ottocento in queste comunità siberiane o addirittura anche europee come quelle ungheresi con i Taltos quelle romene con i Calusari e gli altri che abbiamo nominato quello che dobbiamo capire innanzitutto è che quando si parla di stregoneria o di magia europea medievale paganeggiante diciamo così non si parla semplicemente di esperienze in spirito esperienze sovrannaturali ma si parla anche di una serie di categorie sapienziali che poi sono state inserite nell'ambito scientifico come la conoscenza degli animali della botanica quindi la conoscenza delle erbe oppure la disciplina delle ostetriche che le ostetriche sono sempre state considerate delle figure appunto a metà tra i due mondi perché sono quelle che appunto fanno nascere poi spesso nelle società tradizionali sono anche quelle che accompagnano il morto durante la ripartita fisica ora tutte queste conoscenze scientifiche adesso possiamo dire la conoscenza delle erbe e tutto quanto nel mondo di oggi sono state inserite in blocchi granitici di conoscenze ma al tempo pensiamo che queste sono persone di ceti sociali molto bassi di ambienti rurali di ambienti agrari un tempo ecco c'erano queste persone che erano per lo più donne come abbiamo detto che avevano tutte queste conoscenze e tuttavia non le separavano nei vari ambiti come fa oggi la scienza contemporanea occidentale ma anzi le conoscenze di botanica le conoscenze sugli animali le conoscenze su tutte queste queste conoscenze che avevano erano tutte connesse in una visione del mondo particolare in cui a ogni erba ogni animale era collegato un influsso astrale era collegato una malattia da guarire come nello sciamanesimo alla fine se si fa vedere tanto è vero che molte cosiddette streghe sono state in realtà scagionate nei primi secoli dell'inquisizione proprio perché non vi era una prova di un pensiero anticristiano o pro diavolo diciamo così c'era semplicemente una conoscenza di queste erbe che poi sfociava tramite appunto la creazione di questi unguenti che loro si spalmavano addosso e portavano a questi viaggi in altri mondi ora vorrei fare anche un appunto abbastanza curioso e anche abbastanza simpatico in alcuni testi di alti prelati di alti vescovi questa c'è un episodio che viene completamente frainteso viene citato da Carlo Ginzburg in storia notturna che è il secondo libro su questi argomenti si è creduto che questa strega dalle sue confessioni tenesse sotto il letto un rospo dalla cui urino dalle cui feci lei utilizzando queste urine e queste feci faceva questi viaggi astrali diciamo così ma la chiesa non sapeva che al tempo come accade oggi anche in altre zone del mondo come il Messico come il Peru come l'Asia ci sono diversi tipi di funghi psicotropi come la manita che venivano definiti con una serie di nomi coloriti tra cui appunto uno era l'orina del rospo oppure le feci del rospo le feci del diavolo poi ovviamente diventa in epoca cristiana quindi queste streghe che probabilmente streghe tra virgolette queste erbariste queste che crescevano questi funghi psicotropi in casa loro sotto il letto ovviamente perché non arriva la luce del sole un ambiente fresco probabilmente la chiesa chissà quante testimonianze di questo tipo ha frainteso e allora lì nasce tutta la questione che tenevano in casa degli animali strani da cui ricavavano delle pozioni è vero che le streghe ricavavano delle pozioni questo è in dubbio però ci sono delle terminologie del pagus del popolo rurale di cui la chiesa non aveva dimestichezza e allora qui vediamo una serie di fraintendimenti sul tema dello sciamanesimo che è molto più largo e che va ben oltre i viaggi extracorporei che va ben oltre la conoscenza delle erbe che consentono questi viaggi extracorporei si potrebbe fare un discorso infinito mettiamo a fuoco qualche punto così rapidamente le streghe dicevano di fare i viaggi extracorporei uscendo con l'anima dal corpo e alcune persone che erano presenti nel momento vedevano una mosca una farfalla uscire dalla bocca e poi rientrare nel corpo alla fine dell'esperienza ora questa cosa già la ritroviamo addirittura nei testi degli antichi greci nei secoli ancora precedenti la nascita di Cristo questa cosa dell'uscita della mosca dal corpo la ritroviamo nella tradizione siberiana nella tradizione nordamericana quindi sono veramente gli stessi fenomeni un altro elemento da sottolineare ricollegandoci alla camicia amniotica di prima è un legame con il cappuccio con il mantello che tutte queste entità sottili fate feris goblin munacelli e via dicendo sono rappresentati con questo cappello con questo mantello con questo cappuccio ora nell'antico nell'antica area diciamo così celtica ma anche celtico romana quindi gallica poi noi troviamo questa figura del genio cucullato che sono delle figurine piccole di entità bambinesche diciamo così con questo cappuccio con questo mantello è indubbio che questo cappuccio e mantello vada connesso alla camicia amniotica c'è un collegamento simbolico è come se il genio cucullato fosse la rappresentazione dell'anima esterna dello sciamano quindi queste entità altre diventano le anime esterne dell'operatore magico da cui anche una certa confusione di termini in determinate tradizioni per esempio le masche piemontesi che spesso non si capisce se siano delle persone in carne e osso oppure se siano delle entità sovrannaturali che le streghe appunto con cui le streghe sono in contatto questo perché è come se ci fosse una confraternita anche qui sottile occulta tra le anime degli antenati le anime del mondo naturale e invece le anime e poi le anime esterne degli operatori magici che uscendo con questa anima esterna dal proprio corpo si congiungono a queste esperienze liminali e tu parlavi anche della strega dello sciamano come un folle questo al di là delle semplificazioni prima cattoliche e poi razionalistiche è vero che lo sciamano era un folle ma dobbiamo capire in che senso perché era liminale tra i due mondi era liminale tra il mondo urbano tra il mondo appunto in cui viveva il resto della comunità e il mondo degli spiriti il mondo dei morti da cui anche il fatto che la strega lo sciamano vivevano sempre ai limiti del villaggio come il fabbro d'altronde che è un'altra professione che viene sempre considerata a stretto contatto con l'entità dell'altro mondo e questa liminalità di queste figure da una parte le poneva sotto una speciale lente per l'inquisizione cattolica ovviamente però dall'altra venivano considerati dalle comunità stesse come non solo quelli che potevano fare del male alle comunità ma anche coloro che potevano fare del bene proprio per questa loro liminalità a seconda del loro intento a seconda di quello che volevano fare potevano curare guarire causare la fine di una epidemia oppure di contro potevano causare l'epidemia potevano avvelenare potevano causare potevano far sì che gli armenti non partorissero più che i campi non dessero più frutti oppure potevano intervenire sul tempo meteorologico e ovviamente noi ci accorgiamo che sono tutte delle prerogative che in ambito sciamanico in ambito asiatico vengono connesse anche il nord americano vengono connesse agli sciamani ma anche in ambito celtico ai druidi quindi non c'è una nel mondo pagano originale non c'è una differenza cioè non c'è una dicotomia bene e male semplicemente dipende da quello che l'operatore magico fa e dalla diciamo così dall'oggetto della sua magia dalla situazione nella quale agisce tanto è vero che ci sono anche tantissime testimonianze di malocchi di maledizioni malefici che venivano tolti solo da quelli che erano considerati maligni sciamani neri streghe malefiche quindi anche quelli che venivano considerati in ambito pagano ovviamente in ambito cristiano malefici malevoli avevano un ruolo quando dovevano togliere qualcosa un maleficio a la comunità a qualcuno della comunità non solo è emblematico di come si possono vedere dei valori in duplice salsa cioè io prima ti ho provocato dicendo lo sciamano è molto più di un folle perché ho detto folle come chi ci segue ma anche tu saprai bene esiste un movimento della chiesa ascetica ortodossa russa che si chiama la stortezza in dio gli stolti in dio sono quei monaci che abbandono tutto e tutti sono quei individui che abbandono tutto e tutti per seguire la via del cuore ora prima di fare un paragone col mondo di oggi Marco se uno a un certo punto è un broker finanziario abbandona tutto per andare in sandali in mezzo non so davanti a Zara Milano e inizia a dire la fine vicina sicuramente definiremo uno stolto ma se ciò lo rendesse la persona più salve più saggia capace di discorrere tutti gli argomenti possibili tra accademie e altri luoghi di sapienza come lo reputeremmo ovviamente sto raccontando di un racconto di Panofsky che che alcuni sanno alcuni conoscono ma mette a confronto la stoltezza è un'attualità così come hai detto prima chi toglie il malocchio è lo stesso che viene definito colui che potrebbe portarlo nel senso chi è l'attore di male adesso non mi ricordo il verbo chi è l'attore di male se lo tenga ma in quel senso che è colui che viene visto non solo come un oiettatore che potrebbe essere una saggezza popolare ma anche come un valitore ora abbiamo uscito prima di chiudere visto che abbiamo due minuti e hai nominato anche questa cosa della della santità dei santi effettivamente c'è un libro di Massimo Centini che vado a memoria che si intitola Santi, diavoli e remiti qualcosa del genere in cui ci sono tantissime testimonianze medievali che dimostrano come persino i santi potessero avessero dei poteri che di solito venivano connessi alle streghe e addirittura mi ricordo di una di un documento cattolico della chiesa di Roma che ragiona sulla possibilità che le streghe vengano portate da un luogo all'altro del diavolo ovviamente bisogna parlare di mondi altri di luoghi sottili però vabbè al tempo la distinzione non veniva fatta e viene detto che persino Simon Mago che persino dei santi avevano questo dono di essere presi da Dio e portati oppure addirittura viene citato il fatto che Gesù venne portato nel deserto dal diavolo quindi si cerca di rilasciarsi alla tradizione cristiana però in tutto ciò c'è secondo me una grossa incoerenza perché viene detto i santi pure vengono presi dai diavoli i santi pure c'è l'episodio del combattimento col diavolo di Giacobbe se non ricordo male e quindi se vengono citati nella Bibbia ci sta questi sono santi che hanno avuto queste esperienze con i diavoli e poi che poi invece erano angeli questa cosa è già venuta fuori anche prima la distinzione tra angeli diavoli spiriti è una cosa che avviene solo dal 1400 in poi prima in realtà come nelle tradizioni pagane o sciamani che quando l'operatore magico vive queste esperienze si parla sempre di spiriti si parla con tutti questi termini di ogni zona geografica non c'è quasi mai una voler sottolineare l'elemento malefico tanto è vero che per esempio il fatto dei bambini rapiti in spirito dalle streghe dai diavoli in ambiti sciamanici vengono considerati positivamente è il bambino che viene scelto dagli spiriti fin da piccolo e gli vengono insegnati l'utilizzo delle erbe gli vengono insegnati come agire magicamente sulla realtà e poi quindi c'è un'iniziazione invece in un ambito cristianizzato diciamo così in cui tutta la tradizione pagana viene persa rimane solo quell'elemento oscuro il bambino ha perso l'anima perché è stata rapita dei demoni me l'hanno sostituito e adesso nella mia culla c'è un figlio dei diavoli anziché il mio figlio vediamo come le esperienze sono le medesime però non avendo più il background culturale e cultuale con cui analizzarle correttamente si finisce appunto sul demoniaco sul satanico e via dicendo Marco potremmo parlare delle ore su questa cosa ma purtroppo dovremmo avere un convegno a parte proprio cioè proprio solo riguardante il sacro profano il diavolo l'acqua santa intanto ti ringrazio grazie mille è stato appassionato grazie anche a tutti coloro che hanno seguito e ai ragazzi della società dell'azur e adesso vi invito per l'ultima sessione ma non per valore al prossimo link con Irene Zagna grazie a tutti